Bene, bravo lo so. Allora, Gesù ci ha detto una cosa molto importante. Ci ha parlato di come essere felici. Vogliamo essere felici? Sì. Allora, Gesù ci ha detto che c'è una strada. Adesso veniamo. Ci ha detto che sono felici coloro che sono operatori di pace. E' molto importante. Allora voglio dire che la felicità non sta nel fare la guerra. No. Vi faccio una domanda. Sapete ragazzi dove nasce la guerra? Non lo sapete. Chi è che lo sta? Dove? Dove? Quando due litigano? Sì. No. Vedete. Dove è che nasce? La guerra? Nelle fabbriche delle armi? No. La guerra nasce nella testa. È vero? La guerra nasce innanzitutto nella testa. Scende nel cuore, arriva alla bocca e passa nelle mani. Perché nasce nella testa? Nasce innanzitutto dal modo nel quale io penso di agire. Puoi muover fuori la cattiveria. Puoi arrivare sulla bocca le parole, le parolacce. Quando io dico, quando io dico una parolaccia al mio amico, io sto facendo violenza. Non sono più operatore di pace. Perché rompo, dimmi. Anche da colui che inizia a uccidere. Adesso ce ne dico. Ma prima di arrivare a uccidere, vuol dire che è nel cuore e poi nelle parole. Quando ci diciamo le brutte parole lì con gli altri, noi cominciamo a fare la guerra. Poi passa nelle mani. Se io do un pugno, se io quando gioco do un pugno al mio compagno, che so io, io sto facendo violenza. E allora non sono più felice. Perché? Perché rompo. Faccio contrasto. E allora se è così. Sapete qual è la prima parola di pace? Ve lo dico io. No, voi non lo sapete ve lo dico io. È una parolina molto magica che si usiamo molto poco. No. Scusa. Scusa. Non il pugno. La prima parola di pace è imparare a dire scusami. Capite che è diverso? È diverso da dire una parolaccia. Scusami. E la seconda parola di pace, sapete qual è? Perdonami. Bravo, bravo. Bravissimo. Scusa, perdona. Perché? Perché noi diciamo che la colpa è sempre quella degli altri. La colpa è sempre quella degli altri. Non è vero? Perché finché la colpa è quella degli altri, devo sempre fare una lotta agli altri e non cambio mai il mio cuore. Ecco che allora la pace inizia a cambiare la nostra testa. Ascoltando le parole del Signore. Coltivando il cuore. Giustamente continuava a dirgli il bambino qui davanti l'amore. Coltivando il cuore. Imparando a non dire più parolacce a nessuno. Imparando a parlare bene. Dire parole di pace. Perché la prima guerra è lì. C'è un detto, ragazzi. Ci dobbiamo tenere presente. Perché vi ho detto che è la bocca, è la parola. C'è un detto che dice che la lingua fa più male della spada. È vero. La lingua fa più male della spada. Perché se io dico una parolaccia, dico, non ne ripeto perché dopo le imparate, dopo le dite. E quindi non le dico. No? Ma se dico una parolaccia a un mio amico, mio papà, mia mamma, mio fratello. Io lo sto ferendo. È come se prendessi una spada e gliela infilo. Allora, per altri operatori di pace, invece di dire questo o usare le mani, imparare a dire parole diverse. E poi c'è un altro modo di fare la pace. Prego. Prima parola qual era? Qual era la prima parola? Scusa. La seconda? Perdono. La terza ve lo dico adesso. Terzo modo di fare la pace. Pregare. Pregare. Pregare per gli altri. Impariamo a preare. Signore, aiuta il mio amico. Signore, le sovende. Eh, signore, dai, fa sì che il mio amico sia più buono. Però io parlo a capire di essere più buono. Eh, non solo aiuta l'altro, perché se l'altro diventa più buono e diventa più cattivo, cosa succede? Che non succede niente. Cosa vede di me? Eh? Ecco, esatto. Ma non è bello, no? Perché quando ci dicono le parolacce non mi dica bello. Tutto altro. Allora, ecco che cosa ci dice Gesù. Grazie, finisco subito. Però tenete presente le tre cose che vi ho detto. Vi aspetta un momentino. No? Ecco perché Gesù ci dice. Siccome io vi voglio bene. E vi voglio tanto, 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 tanto bene. Io vi insegno la strada perché siate felici tutti insieme. Quindi è visto oggi come bello essere tutti insieme, giocare, non litigare, giocare insieme. È bello, no? Felice. Ecco, io vi insegno la strada per essere felici. E' questa. Diventare operatori di pace nella mia attività. Quando c'è qualcuno che vive e voglia di litigare, pensate, no, invece di litigare è meglio fare a me. Ecco, ora siamo veramente operatori di pace. E diventiamo, ragazzi, permettete, politici qui dietro, diventiamo esempio anche per noi, prima dico per noi, ma per il lavoro che ci sono detto, ci hanno detto tutti, diventiamo esempio anche per i politici che possono certamente discutere, va bene, ma anche loro devono costruire la pace. Però, ragazzi, ricordiamoci una cosa, non spetta agli altri costruire la pace, spetta a ciascuno di noi. D'accordo? D'accordo? Allora, chiudo. Con chi dobbiamo fare la pace per primo? Con? Facciamo la pace con Gesù? Eh, vero. Ma facciamo la pace con Gesù prima? Con noi stessi, certamente. Però dobbiamo fare la pace anche con Gesù. E come è che facciamo la pace con Gesù? E' la prima scusa a chi? A chi dobbiamo chiedere scusa per primo? A Gesù. A chi non ho capito bene? A chi? Non ho sentito. A chi dobbiamo chiedere? Bravi. Allora, prima a Gesù, poi agli amici, papà, la mamma, eccetera. E allora saremo veramente per il pace. E sapete cosa succederà? che Gesù fa un bel sorriso. Ti abbiamo reso contento, Gesù. Farà un bel sorriso, ti farà un bel sorriso. Che bello, sono contento. Gesù, contento, noi in pace. Ecco, questo è il vostro cammino. Avete capito ragazzi? Fatelo e sarete felici. Adesso.